prepariamo il soffritto abbiamo bisogno di pomodori olio di oliva aglio a descrizione un po di peperoncino tagliate anche un po di prezzemolo perché vi servirà dopo nel frattempo abbiamo cucinato le nostre patelle dividendo il guscio dal mollusco l'olio extravergine e l'aglio lasciamo soffriggere saporiamo con del sale troncino e lasciamo soffriggere per circa 5 minuti aggiungiamo le patelle mettiamo il sopecchio e lasciamo cucinare per circa 5 minuti nel frattempo cuciniamo le linguine la pasta e versiamola nel sughetto per bene e serviamo a tavola buon appetito ottimo